Proroga di tre mesi dell'affitto del ramo aziendale alla GECO e presidio sciolto nel Maxi Polo di Viale Regione Siciliana a Palermo. Gioiscono i dipendenti, grande migliore di Via Generale di Maria e del Polo di Trapani, che dopo giorni di preoccupazione e civili proteste potranno tornare a lavorare almeno fino a gennaio inoltrato. Risolutivo in questo senso l'incontro tra il commissario straordinario Francesco Macario, le parti sindacali e una delegazione di lavoratori dal quale è saltata fuori la proroga con la promessa di istituire un nuovo bando per la cessione di tutti gli immobili all'azienda. Alla corsa parteciperà sicuramente il gruppo Bella Via che con il suo piano di rilancio già ha dimostrato grande serietà, assumendo già 80 dei 260 cassi integrati grande migliore. Corsa nella quale potrebbe inserirsi anche la cooperativa sostenuta da Lega Cop che invece aveva rinunciato al primo bando. Le nostre richieste, frutto di enormi sacrifici ai lavoratori, dell'occupazione e della tanta tanta solidarietà che abbiamo registrato a parte di tutti i clienti dei cittadini palermitani che passando davanti al grande migliore di Via La Regione suonavano un colpo di clacson e non l'hanno fatto soltanto i palermitani ma anche un po' in tutta Italia c'è stata adesione a questo momento di solidarietà per questi lavoratori. Infatti noi chiedevamo a gran forza. Nell'emore venisse dato una proroga affinché si possa dare continuità lavorativa e mantenere gli accordi sindacali già posti in essere che malgrado la GECO abbia dato un input al rialzo per la propria offerta, ha mantenuto comunque invariato il numero dei lavoratori che verranno immessi.